EA Sports, URC ragazzi, finalmente siamo tornati dopo un po' di tempo, dopo un po' di tempo che non ci giocavamo, siamo qui però oggi per continuare l'avventura costruzioni auto, la carriera, intanto vi ricordo la mia collaborazione con Amazon, con lo shop Amazon, potete trovare i link dei miei prodotti che sponsorizzo di Amazon qui nella descrizione, non dovete fare altro che cliccare e se comprerete qualcosa, una piccola percentuale di Amazon andrà a me per sostenere il mio canale, quindi mi raccomando andate a dare un'occhiada a questo shop, troverete tutti i link dei miei prodotti in descrizione, però non vi preoccupate, anche se non comprate quel determinato prodotto che sto sponsorizzando, l'importante è cliccare sopra e poi potete comprare quello che volete Amazon mi regalerà, mi farà sempre un piccolo regalino, quindi mi raccomando ragazzi, se dovete andare su Amazon a comprare, venite qui sui miei video YouTube e cliccate su uno dei miei link Ma non perdiamo altro tempo ragazzi, eravamo rimasti alla settimana 5, avevamo completato il primo rally che era Monte Carlo, avevamo vinto, eravamo in prima posizione Adesso andiamo a vedere anche la classifica, eccola qui velocemente siamo a 28 punti, il nostro Gerardo Stormici con il suo copilota Joe Travolta a 28 punti Dicevamo, ragazzi andiamo subito nella settimana numero 5 su cui dobbiamo disputare il rally di Svezia Come sempre ragazzi, se vi piace questa serie, questa carriera, mi raccomando like e commento, let's go Neve, neve a morire ragazzi, neve a morire, neve a morire, ragazzi con i miei nuovi guantoni della Fox dobbiamo vincere Si metterà male sicuro, si metterà male, attenzione Inizia 40, destra 5, buona fortuna Mamma mia 5, 4, 3, 2, 1, via 40, 5, 5, apre Con cautela 100 Stai a destra su salto piccolo, 40, dosso, 60, destra 6, salto, apre Ragazzi non l'ho nemmeno provato la neve come lo giuro Stiamo andando così, occhi Chiusi Ok dai, sembra che si mantenga abbastanza bene Al momento Non so stare attento a ciò che dice John Travolta Vai, belli leggiatri Oh no Vai, tutta di traverso dai Devo cercare di mettere la macchina bella di traverso Beh, questa macchina però l'abbiamo costruita bella, proprio bene Attenzione non è uscito l'intertempo, non so, no No, 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 ti prego, no, 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 no No, ragazzi, ho preso già la prima penalità, porco cane Cioè, io lo so, per parlare qua Ci siamo andati sulle persone Ok Non deve succedere, non deve succedere Si prende subito la concentrazione perché sto sempre a parlare Oh no Dai, calmo Si addrizzi Ragazzi Altri 5 secondi di penalità siamo Ma, oh Si parte male, si parte male Ma non molliamo, non molliamo Non molliamo mai Non me cosa è cappottata lì Senza concentrazione Come si fa, come si fa Portate non fare danni troppo grossi, ragazzi Non cerchere di arrivare fino alla fine Non perdere tanto tempo Ok, non mi sta dicendo l'intertempo Perché forse sono uno dei primi che sto correndo questa tappa Mi avrebbe dato la classifica parziale No, 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 lo sapevo, lo sapevo Nooo Troppe penalità, ragazzi Troppe penalità come prima tappa Fortuna La macchina sulla neve non si rompe tanto A meno che non andiamo a finire giù Dobbiamo solo calcolare bene l'accelerazione, ragazzi Perché è molto importante, perché mi sto girando troppo Sto buttando troppo giù il pedale Questa prima tappa Però Abbiamo visto anche nelle puntate precedenti Che Che Gerardo Sormici Sormici è abituato Ai miracoli Quindi dai Senza sbagliare Uh, oh Attenzione Stai a sinistra Su salto Cocaine Attenzione Stai a destra Le pallette Tutta altra parte Ok 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 Sotto sterzo Bisogna stare attenti Ok con calma dai Con calma Calma Senza Complicarci ulteriormente Ci rifaremo alla prossima Donna qua Eh lo so Lo so La perdo La perdo Però Ragazzi Eh No È una vita che non ci gioco Ve lo giusto Non mi sono allenato nemmeno No Non mi sono allenato nemmeno Che culo qua Non mi sono schiantato per poco Ok allora La prima tappa è stata fatta Andiamo a vedere subito la prossima Anzi andiamo a vedere subito Andiamo a vedere prima come ci siamo Classificati Vediamo quanti danni abbiamo fatto Vediamo Allora Ragazzi 31esimi Non ci credo ragazzi Ultimi a 49 secondi Questo non succedeva Prima Prima giocavamo molto meglio all'inizio Però non molliamo Non molliamo ragazzi Non molliamo Allora Mi devo riprendere Mi devo riprendere con gli esports VRC Che è da tanto È da tanto Altra tappa La nostra auto Creata da noi Impegno Impegno ragazzi Cercherò di fare meglio Stavolta Il problema è che abbiamo avuto Tante Tante penalità Nella prima Cimenti L'avremmo fatto meglio 50 Retarda a sinistra 4 E sinistra 5 Apre 50 Oh Questa se ne va da sola La macchina Ve lo giuro Stai a sinistra Suntosso 230 Allora Con calma Non è che la dobbiamo far arrivare Mamma mia Quanto sole Qua sulla neve Non siete un cavolo Siamo fatti male Siamo fatti male Siamo fatti male 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 Sinistra 6 Su salto Apre lunga E accendo sinistra Su dosso 100 Oh no Non la tengo Troppo veloce Sto pezzo Stai a destra Su salto piccolo 80 Stai a sinistra 150 Rallenta Troppo dritta Stai a sinistra No 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 Raga No 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 Malissimo 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 Ragazzi Era troppo veloce Lì quel pezzo Salto 50 Malissimo Ma non molliamo Mai mollare Never moller Un'altra Una mia raga La perdo Questa 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 Non è L'ideale Sulla Neve Qui magari Ci ritochiamo Un po' L'assetto Ma io ho sbaglio sicuramente A dosare l'acceleratore Perché è abituato ai giochi su strada Era da un botto di tempo Che non ci giocavo Ma Miglioreremo Questo è sicuro È sicuro Ma mia ragazzi Oh come va via Va via da sola Oh 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 Chi ho Eh qua se vogliamo andare forte Non è fai Oh bivio La calma ci vuole In questi giochi La calma e non la velocità La precisione più importante della velocità Uh oh 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 sicuramente dai che cavo che già abbiamo preso altre penalità non so se quel primo posto in campionato lo manterremo in questa seconda tappa cioè questo secondo grand prix guardiamo che siamo in campionato vrc2 al momento cercare di tenerci il posto senza farci cacciare dal nostro team occhio ma abbiamo dei paletti che ci incastriamo sopra diciamo danni grossi danni questa è una bella lunghetta sta tappa gli alberi ci avevano avvisato devo prendere confidenza di nuovo con l'auto quello è l'importante e non strafare non strafare perché dobbiamo di aver recuperato qualcosa in questa questo tangente frangente no e vabbè che ho detto io che ho detto tu ti diverti così maverick attenzione 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 siamo cappottati ma sono ritornati in pista ultimo settore cappottamenti a go go in questa puntata no 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 la portella ho perso raga ho perso la portella portella di di john travolta adesso lo perdiamo proprio dalla macchina attenzione aggrappati john quantity no Un altro albero Eh raga Troppo aggressivi Queste prime due tappe No 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 Ho perso altro tempo Ve lo giusto Nasticosi davanti Che falle Ragazzi come al solito Le prime due tappe Di Gerardo Stormici Vanno sempre malissimo Malissimo Fuck Fuck Andiamo a vedere i danni Andiamo a vedere ancora i danni Che abbiamo causato Siamo di nuovo ultimi A un minuto Complicatissimi ragazzi Complicatissimi Siamo in ultima posizione A un minuto E cinquanta Le tappe sono Cinque In tutto Quindi Non lo so Non lo so C'è tempo C'è tempo Magari ci riprendiamo Nelle prossime Tre tappe Non si sa mai Non si sa mai Dobbiamo vedere Se abbiamo un'altra tappa O dobbiamo Ritornare Ad aggiustare A me dice Prossima tappa Invece no Tutto a posto? Infatti No no Sto bene È la macchina È la macchina Che si errore Ma stai zitto Ma vai Ma zitto Ok vabbè Ci mette tutto Ok 14 minuti Soltanto per riparare Quindi danni Grossi Non ne abbiamo fatti A quanto pare Ebbene ragazzi Le prime due tappe Del rally di Svezia Sono andate Malissimo Noi Chiudiamo qui Questa puntata Mi raccomando Like e commento Date un'occhiata Allo shop di Amazon Al mio shop Alla mia affiliazione Con Amazon Qui sotto Troverete il link Di alcuni gadget Noi Ci vediamo A un prossimo video Mi raccomando ragazzi Fatemi sapere Se vi piace La serie E noi ci vediamo A un prossimo video Let's go A un prossimo video